ciao luisa tu sei l'angelo custode dei nuovi iscritti nuovi iscritti nuovi iscritti nuovi iscritti a chi a che cosa ecopsichè scuola di ecopsicologia come ci sei arrivata che cosa hai trovato ciao si sono luisa sono arrivata nel 2016 a ecopsichè a incontrare ecopsichè e ho iniziato a lavorare con un percorso di crescita personale perché avevo bisogno di praticamente conoscere me stessa per potermi aprire in modo migliore agli altri quindi da una piccola problematica personale per aprirmi al mondo sono diventata l'angelo perché dopo aver fatto la mia formazione non sono più riuscita a staccarmi dalla scuola e ho voluto portare agli altri quello che avevo appreso rimanendo comunque nella radice in cui mi ero creata